Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quali sono le innovazioni di pubblica amministrazione con internet e quali sono i vantaggi che può dare? Dunque, anche qui l'innovazione è... anche qui dico perché se ne parlava credo l'altra volta con la scuola in quanto pubblica amministrazione scolastica. Le vie, le migliorie, i modi di fare, le cose da preferibilmente seguire subito si conoscono da molti anni. Ci sono delle indicazioni del Formez o di altre enti di formazione per la pubblica amministrazione, di suggerimento, di consulenza, che sanno bene cosa bisognerebbe fare per modernizzare l'APA per l'appunto. E negli anni qualcosa si è fatto, fondamentalmente il concetto chiave è la trasparenza se vogliamo, quindi partiamo da Bassanini dei primi 90. Più le varie migliorie accadute fino agli anni 90 con il ministro Stanca nel governo Berlusconi del 2001, credo sia. C'è una legge 150 di Stanca che se non altro, ampiamente a disattesa fino a poco tempo fa... Sì, come tutte le sleze d'estate italiane, ecco. Come succede appunto in Italia, però sulla carta le cose ci sono. Lì le procedure di ottimizzazione sono molto semplici. Ottimizzazione è la parola chiave, cioè le stesse stesse identiche cose che si possono fare in questo momento, vidimare degli atti, consultare gli appalti per chi deve costruire qualcosa attraverso l'ufficio tecnico del comune, la pubblicazione sull'albo pretorio, che ormai deve diventare un albo elettronico. L'albo pretorio è una cosa che ha... Ecco qui, è una roba interessante. ...2.500 anni, che andiamo avanti con una bacheca. Ecco, le domande, ma sono dei comuns, pubbliche amministrazioni virtuose, magari tenestis territori, mi visi, Tim Pindaur, che il sit che aveva passato un po' l'esame dell'Università di Udin dal professor Francesco Piero e dai suoi collaboratori, mi pare che era il comune di Udin e che era il di Pordenon, chi dove lì, era stato bocciato, che era il di Trieste, dopo non mi visi, però aveva fatto proprio un scandale sulle pubbliche amministrazioni, sulle trasparenze. Ecco, io ho notato che dal comune di Udin, insomma, c'è una bacheca elettronica, che qui arriva a navigare, dopo io non lo sai, qui che fassi si, qualche volta... E lì c'è un problema, certo. Ecco, si potrebbe discutere un po' per ore, però effettivamente c'è attistante robe. Sì, anche lì c'è una cultura della progettazione, della comunicazione dell'APA, al punto che è interessante leggere dei documenti 2005, anche ripetuti ultimamente, che si chiamano linee guida per la qualità della comunicazione della pubblica amministrazione. La fa direttamente il Ministero dell'Innovazione, da quando c'è Brunetta, prima le Formez oppure altri istituti governativi. Lì ci sono le indicazioni chiare, qual è il problema? Che nei primi anni del web, le PA, come le aziende, come gli altri, avevano interpretato il concetto di mettere in rete le proprie informazioni con il famoso sito vetrina, quindi praticamente la struttura con cui mettevano giù l'architettura delle informazioni, ricalcava quello che loro erano, quindi c'è l'ufficio tecnico, c'è l'ufficio del sindaco, c'è l'assessorato e loro paro paro portavano in rete questa struttura. Quindi la navigazione era complicata, mentre ci sono delle direttive europee che ad esempio prevedono già da una decina d'anni circa, il fatto di dover progettare e quindi offrire all'utenza un sito web progettato e disegnato dal punto di vista dell'utilizzatore, dell'utente finale, come si dice. Quindi il problema non è che se sono una mamma che ha un bambino di tre anni deve iscriverlo all'asilo, non devo andare sul comune, cercare scuole, cercare asili, cercare iscrizioni, cercare il modulo, devo arrivare e muovermi secondo le tappe della vita, detta come internet. Sarebbe a dire, la prima cosa che devo cercare è, sono una mamma, ho un bambino, devo iscriverlo all'asilo, datemi il modulo. Quindi lei fa quattro click, tre click, non deve farne venti per arrivare su quello che le serve effettivamente. E perché in questo modo è molto più facile? Perché l'informazione è organizzata secondo quello che lei sta cercando, non quello che l'APA offre e mostra agli altri. Il concetto per fortuna si è superato, quelle che tu dicevi, comune di Udine oppure gli altri che vengono tra virgolette premiati o comunque segnalati nelle ricerche universitarie in questo caso, sono validi perché? Perché riescono proprio ad offrire un servizio di navigazione, quello che si chiama l'usabilità del sito, è un altro argomento importante. Infatti esiste un bien libre de carocci, che senso, che hai letto di tempi in da urso, l'usabilità in generale dei rete, dei siti. Certo, quella è la chiave del successo di uno strumento tecnologico, perché la sua facilità d'uso è quella che determinerà il suo successo. Abbiamo visto con i telefonini, tu puoi avere un telefonino pieno di funzioni, ma se ti occorrono 20 click per andare nella rubrica, non lo usi. Ne usi uno che magari è più scrauso, però ti è più facile. Come il mail. E allora, quindi, i siti del, ad esempio, comune di Udine, si sta rivelando ben disegnato, ben progettato per i servizi che riesce a offrire alla navigazione. Spicciola quotidiana di ogni giorno delle persone che devono cercare cose concrete, indirizzi, appalti, informazioni, gare. Ecco, a parte il siti del comune di Udine, come si stanno organizzando i nestris comuns e in generale i enz locai, chi di noi, ecco, le pubbliche amministrazioni, che forse è chi che interessa in beggiunsa e in estris ascoltadors? Stanno organizzando in che senso? In generale, da questi servizi, anche di ordine pratica, a chi che sono gli utensi? Ci sono, come al solito, si passa attraverso le persone. Ci sono delle persone che hanno capito il cambiamento culturale di quello che sta facendo la rete alla socialità, alla cultura, al mondo, all'economia, a tutto quanto. E quindi capiscono che metterci sopra qualche risorsa, che vuol dire chiamare dei professionisti, ad esempio, a progettare un sito web e non farlo fare dal primo che dice di saper usare l'HTML. C'è un albo nazionale dei comunicatori pubblici, ad esempio, che dovrebbe essere una figura, insieme all'URP, cioè all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico, dovrebbe sempre essere prevista dentro l'EPA una figura di comunicatore pubblico, perché la funzione dell'istituzione è quella di comunicare con il cittadino, nella comunicazione con la cittadinanza. Quindi cosa vediamo noi? Un panorama a mosaico sul territorio regionale, ovunque, dove ci sono punti di eccellenza, dei siti governativi o delle enti locali che sanno comunicare col cittadino oppure provano. Siamo sempre in un'ottica un po'... quello che si pensava di riuscire a fare a fine 90 si sta riuscendo a fare adesso, con dieci anni di ritardo. Noi in questo momento sappiamo che siamo dentro un web moderno, partecipativo, 2.0. Si potrebbe fare molto di più, per dire, no? Attivare direttamente sul territorio dei luoghi di conversazione. Su cui puoi poter far passare, ad esempio, dei meccanismi consultivi sulla cittadinanza, per non dire tra due anni decisionali, proprio, riguardo a alcune... Cioè i cittadini che con le web dannano le decisioni... Facciamo un esempio. Se io non so dove mettere i cassonetti per la differenziata, in un quartiere di Udine, la cosa migliore da fare è che il Comune apra un cosiddetto blog urbano, gli urban blog, su cui le persone di quella circoscrizione, cioè i portatori di interesse diretti di quella questione, possono esprimere il loro parere. E chi ci abita lì sa qual è il posto migliore per mettere i cassonetti della differenziata. A quel punto, semplicemente, con dei meccanismi consultivi, io permetto una cosa che si chiama partecipazione. Partecipazione alle... Ecco, che si lo vedevi sul sito del mecomune di Feagne, il nome che veniva da Prate, che si segnalava in proprio le situazioni di crisi, e di Sarai che è veduta anche delle segnalazioni importanti, dopo forse ti sono un po' perdute per la strada. C'è un po' di fare che la pubblica amministrazione fa doprà il web ai cittadini. Come ho? E' sempre più in che lo doprà, che è la verità. Però, hai un modello culturale, che ad esempio tessi persone più anziane, che sareste in caso che in realtà ti avreste in più i benefici, proprio perché non hanno le stesse mobilità. Ecco, come si fa? Se la produci un cambiamento a livello culturale, domande di un milione di dollari a Giorgio Iannis, il nostro esperto di Noves Technologies. Le cento pistole. Intanto c'è il fatto che le persone anziane stanno arrivando parecchio in rete, si può vedere ad esempio sulle statistiche su Facebook, su quanto stanno partecipando. Sono stati realizzati anche dei progetti con cui vengono coinvolti ad esempio gli anziani. C'era un progetto, mi ricordo, nelle scuole qualche anno fa che si chiamava Nonni e Nipoti, in cui avveniva questo scambio di competenze digitali tra i minori e gli anziani. Quello che tu parli, però, teniamo presente, a prescindere dal problema digital divide, cioè il fatto che non tutte quante le zone territoriali sono connesse come dovrebbero, passa semplicemente attraverso quello che fa funzionare la rete, cioè offrire servizi, vantaggi e le cose che le persone cercano. Quindi, se ragioniamo ad esempio di pubblica amministrazione, bisogna sempre vedere il doppio lato della medaglia. O quello che la PA deve, per legge, tra virgolette, ma pochi se lo ricordano, fare nei confronti della cittadinanza, cioè i government, offrire sul proprio sito tutti quanti i vari servizi, dall'anagrafe alla possibilità di consultare, come si diceva prima, gli appalti, le gare di appalto, le convocazioni, le cose per la cittadinanza. Ed è quello che lei deve offrire. Questo presuppone, teniamo presente, che la PA, per organizzare così bene un front office, che è la sua parte visibile, deve essere però anche adeguata nel suo back office, cioè ci vogliono appunto, si diceva, come un comunicatore pubblico, una struttura interna che sia capace di sostenere una simile mole di informazione, di traffico. Allo stesso modo, l'altro lato della discussione è appunto l'e-democracy, con cui poi i cittadini possono direttamente partecipare all'acqua. Un discorso interessante, un po' di indirettamente partecipa a proprio tale discussione, ma magari va in occasione di fevelare in un'altra delle puntate e-democracy, e-government, queste elettroniche certificate, questo mi plazarese e ci ridi capire che io perché in televisione si è fevelare tanto, ma nessuno la capisce noi. Le prossime puntate sempre con Giorgio Iannis e neste esperto di nuove tecnologie che non sconte un grumondo di cose interessanti dal Maze di Tecnologie dal Web a Chiavone Furlani. Mandi Giorgio. Ciao, buona.